buongiorno a tutti voi e bentornati nel nostro canale su youtube qui vediamo il principio della rifrazione all'opera in un bicchiere d'acqua abbiamo immerso un oggetto e si vede che l'oggetto appare piegato abbiamo messo un coltello e vediamo che sembra piegato questo è dovuto alla rifrazione della luce quando cambia all'interno di un mezzo si passa dall'aria all'acqua quindi abbiamo questo effetto vedete che si vedono doppia immagine